in sicurezza l'intero territorio della nostra città. Il ministro della Sovranità Alimentare e il Made in Italy, Francesco Lollo Brigida, ha firmato il decreto per i danni all'agricoltura provocati dalla siccità che ha colpito la nostra regione a partire da maggio di quest'anno. Analoghi provvedimenti per far fronte ai danni subiti alle produzioni agroalimentari sono stati firmati in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Umbria. Saranno avviate anche in Basilicata due delle sei iniziative selezionate da Fondazione con il Sud per contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri e che prevedono uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro. Le iniziative coinvolgono complessivamente quasi 60 organizzazioni tra cooperative sociali, associazioni, istituzioni locali, università e fondazioni. E sempre più giovani e famiglie con bambini soffrono la crisi. A dirlo è l'ultimo rapporto della Caritas di Potenza che nel 2021...